Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Le prove della vita. Spero dopo la condividerete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Le prove della vita perché nella vita avrai tante cose, nel vero senso della parola, e verrai messo a dura prova per vedere che persona sei. Quindi ogni cosa c'ha un inizio e una fine, una prova da superare per avere un giudizio dell'efficienza. La vita è un banco di prova. Serve a crescere e a migliorare. La vita ci insegna la gioia che potremo sempre coltivare. Le prove della vita ti scandalizzeranno sempre. Ti faranno vedere con fatica tutte le sue angolazioni più nascoste. Quindi la vita è fatta di prove. Ci fa conoscere tutto da tutte le sue angolazioni e tutte le sue sfaccettature e le prove da superare. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Le prove della vita. Nella vita vivrai tante cose, nel vero senso della parola, e verrai messo a dura prova per vedere che persona sei. La vita è un banco di prova e serve a crescere e migliorare. La vita ti insegna la gioia che potrai sempre coltivare. Le prove della vita ti scandalizzeranno sempre. Ti faranno vedere con fatica tutte le sue angolazioni più nascoste. Le prove della vita diranno cosa veramente sei. Sta a te di mostrare verità per tutto ciò che vissuto avrai. Grazie. Spero la condividerete a tutti su WhatsApp. Arrivederci.